Il male. Che cos'è il male? Dai tempi più antichi la parola male viene considerata come un qualcosa di oscuro, di nascosto, di misterioso. Però contemporaneamente, paradossalmente, anche se siamo terrorizzati da questo qualcosa che ben poco conosciamo, contemporaneamente ne siamo in modo quasi macabro attratti. Perché? Perché il male è qualcosa di sconosciuto e quel che è sconosciuto crea nella mente delle persone un'attrazione, quasi un'attrazione fatale, verso quel qualcosa. Ebbene, il male, ho scritto anche un articolo al riguardo nel blog di Natura Giusta, il male ha il suo senso. Esiste. E, guarda caso, i film horror, per esempio, sono pregni di questa parte di realtà. Nella dualità, nel nostro mondo, abbiamo il bene e il male. O magari il bene oggi non viene neanche considerato, vista la situazione mondiale in cui viviamo, ma esiste. Esiste il male perché il bene possa essere visto. Ho scritto nell'articolo che se esiste un Dio, e un Dio, diciamo, per chi segue questa pagina, un qualcosa che sta al di sopra della nostra coscienza, esiste. Io lo definisco anche il fluire della vita. Per me energia, Dio, vita sono sinonimi. Ecco, se esiste un Dio che sta al di sopra di tutto, e che ha creato questa parte di piano, dove esistono gli opposti, dove esiste l'uomo e la donna, dove esistono appunto il bene e il male, il giorno e la notte, Ecco, se ha ammesso, se ha approvato questo Dio, l'esistenza del male, allora possiamo accettare come ipotesi che sia stato lui stesso, per l'appunto, Se non a volerlo, ha da provare la sua presenza qui. Quindi, questo fantomatico male ha un suo senso, ha un suo senso di esistere, ed ognuno di noi potrebbe domandarsi quale sia il male che viene a trovarlo, a trovarla nella vita, E quale sia il suo fine, quale sia il suo senso. Non conoscendo il significato di che cosa la negatività porta, allora siamo portati come animali a fuggire dal dolore e avvicinarci al piacere. Ma c'è poco da fare il dolore, le sfortune, il male in generale colpisce tutti. E ad ognuno colpisce un determinato tipo di dolore, di sofferenza. Il male in generale comprende il dolore e la sofferenza. Essere passivi riguardo al dolore non fa altro che renderci inermi, renderci vittime di quello che ci accade. Invece, essere proattivi, ok, magari la mia vita è tra le più sfigate del mondo, Però comprendere che quel male che viene a trovarci ha un suo senso, ha un suo messaggio, Ha il fine di farci rendere conto che magari non stiamo percorrendo la nostra strada, Magari non stiamo facendo quello che siamo venuti a fare. Allora il dolore, la sofferenza, le malattie, le somatizzazioni, Vengono a, come un messaggero, come il messaggero degli dèi, veniva, Andava a portare i messaggi. Ecco, questi hanno un messaggio, un messaggio per noi. Ed è importante decifrarlo. È importante decifrarlo perché, Se no, restiamo passivi, inermi, senza energia vitale Per riuscire a comprendere e anche superare I dolori, le sfortune e il male che nella vita Capita ad ognuno di noi. Grazie